Mi sembra che sia una serata come vi abbiamo promesso all'inizio di buonissima musica. Adesso vi presento... oh canto, canta te! Io sono qui per far cantare gli altri, no? Allora no, ma ricordatevi di essere generosi sempre e questo bisogna dirlo ogni tanto. Grazie anche a casa. Però voglio presentarvi un gruppo straordinario, sono i Jubilation Gospel Choir. Adesso arrivano però voglio parlare, accomodatevi, con il maestro Luca del Tongo. Dove sei? Dov'è il maestro? Allora, vengono da Livorno, prevalentemente da Livorno. Maestro buonasera, venga veloce perché qui i minuti sono contati. Allora, Livorno. Mi dicevano che sono quasi tutti livornesi, che amano tutti il gospel, il blues. Da quanto tempo è questo gruppo, è formato? È un gruppo nato nel 1998, tutti livornesi, tranne King Carson, che è un po' più americano. Il più pallido, diciamo. Il più pallido di tutti. Ok, sono bravissimi, delle bellissime voci. Proviamo così un attimo. Lo so che non lo permettono, ma noi lo facciamo lo stesso. Dai, dai, vai. One, two, three, vai! Oh, and the same, go machini, go machini. Oh, and the same, go machini. Eh, anche voi, dai, su. Oh, and the same, go machini. Oh, and the same, go machini. Oh, and the same, go machini. Bravi! Luca, mi fanno dei segnacci, ha detto che ci mandano a casa tutti e due, assieme a tutti i ragazzi. Sono giovanissimi, bravissimi. Allora, bocca al lupo. Calore, eh, mi raccomando. Vai, Luca, ragazzi, bocca al lupo. Grazie! Grazie!